Ciao, oggi vi parlerò di questo libro chiamato la mia rivoluzione. Questo libro è ambientato nel 1961 a Cuba e la protagonista si chiama Laura e ha solo 13 anni quando scopre la campagna di alfabetizzazione. Praticamente la gente che sapeva leggere e scrivere doveva andare a insegnare alla gente analfabeta. Quindi, dato che questa ragazzina non era mai stata fuori da Lavana, ovvero la capitale, decide lo stesso di andare per mettere il suo sapere a disposizione dell'altra gente. I suoi genitori non erano molto d'accordo perché, dato che lei era piccola, avevano comunque paura. Bisogna sempre lottare per mettere il proprio sapere a disposizione degli altri. Questo libro mi è piaciuto molto e lo consiglio anche perché c'è una connessione con la mia famiglia perché mia mamma è di origine cubane. Grazie.